Ciao eccoci con un nuovo video se è il primo video che vedi sul canale magari non saprai che io stavo facendo il dottorato e sono a farlo in Norvegia nella città di Trondheim e mentre faccio un po' di introduzione e qualche premessa in questo video troverai qualche video che compare qui appunto davanti a me più o meno a fianco alla mia faccia in cui ti farò vedere quello che è l'ufficio in cui sono la vista insomma dal nostro ufficio che condivido con altri tre la sala da pranzo e qualche altra cosa insomma così da capire anche un po' l'ambiente mi è stato chiesto più di una volta quale sia un po' la giornata tipo del mio lavoro insomma la mia giornata tipo nella settimana chiaramente questa premessa secondo me è scontata però magari non lo è per tutti non esiste una giornata tipo insomma o una giornata media soprattutto nel lavoro di uno che si occupa di ricerca come un dottorando o chi è nel mondo accademico comunque infatti diciamo che ogni giorno ha delle sfide dei progetti e delle cose diverse dei meeting degli incontri diversi e soprattutto ci sono anche delle interruzioni che uno non può aspettarsi chiaramente ma questo non è tipico solo del lavoro del dottorando ma è di molti altri insomma quindi quello che ho provato a fare in questo video è diciamo descrivere quella che è la giornata che io cerco di replicare cerco di seguire insomma il piano nel momento in cui non ho particolari meeting o particolari scadenze vicine a quel giorno insomma quindi quando riesco a gestirmi il tempo in maniera autonoma e quindi mettere gli impegni quando preferisco diciamo che giornate come questa ci sono più o meno esattamente come questa ce ne sono sei forse all'anno no all'anno al mese e quindi diciamo che non è una cosa super frequente però comunque spesso ci vado molto vicino a questo e quantomeno cerco di pianificare di partire con un piano poi rovinarlo in corso d'opera cercando di far rientrare i vari impegni le varie cose insomma che appaiono nel corso della giornata però diciamo che la scaletta che ti farò vedere adesso e che commenterò è quella che secondo me funziona insomma per quello che devo fare e che nel momento in cui riesco a seguirla so che mi permette di ottenere dei risultati insomma nel momento in cui la mantengo con costanza e lavoro come come si deve insomma quindi niente chiaramente non ti racconto cosa faccio prima e dopo il lavoro se non la corsa così faccio vedere che non lavoro e basta insomma però per il resto non ti dico insomma quando mi alzo quando vado a dormire cosa faccio la sera ti dico più o meno quando inizio e quando finisco e cosa faccio nel mentre e ho pensato di dividere a metà la giornata prima del pranzo e dopo del pranzo così ci sta a video la schermata e la tabella che adesso comparirà quella prima del pranzo e si vede in maniera più semplice quello che ho scritto ok quindi partiamo intanto dagli orari insomma che seguo io di solito faccio 8-18 può essere tanto può essere poco questo è quello che faccio io quando riesco insomma a gestirmi negli orari insomma e 8-10 solitamente cerco di avere del tempo in cui diciamo produco e lo faccio senza interruzioni senza distrazioni questo perché di solito quando mi sveglio insomma sono abbastanza tranquillo non ho grossi impegni non ho grosse necessità del tipo leggere email o cose del genere infatti sono ancora in una posizione in cui non ho impegni così sopra di me insomma del tipo meeting appuntamenti e cose del genere che mi impongano di svegliarmi e leggere la mail insomma posso abbastanza gestirmi la mattina di solito prima delle 10 non ho grandi appuntamenti e quindi diciamo che le prime due ore cerco di lavorare senza internet che può voler dire insomma fare ricerca nel senso diciamo puro della parola quindi ovvero provare a risolvere dei problemi provare a trovare degli esempi dei controesempi provare a scrivere delle dimostrazioni andare avanti su quello che ho lasciato indietro insomma nei giorni precedenti oppure può anche voler dire scrivere una nota o scrivere parte di un paper chiaramente non scrivi in due ore un paper intero comunque diciamo che l'idea di base è fare quelle cose che hanno bisogno di attenzione che riesce a fare meglio nel momento in cui non si è interrotto e per questo cerco di farlo senza usare internet a meno che non sia proprio necessario e anche in quel caso cerco di farlo in maniera diciamo intenzionale quindi se devo scrivere su latech uso overleaf cerco di non usare le altre gli altri siti insomma di rimanere solo lì chiaramente in queste ore che io ho identificato siccome non sono un robot ci sono anche pause ci sono anche momenti in cui parlo con altri che chiaramente cerco di limitare nel momento in cui riesco insomma se invece c'è qualche discussione interessante o qualcuno che mi chiede viene a bere un caffè chiaro se finisco quello che devo fare vado insomma diciamo che poi dalle 10 alle 12 c'è la seconda fase della mattinata seconda e ultima prima del pranzo e questa è quella in cui scrivo codice quello che il mio dottorato diciamo che ha come tema principale le reti neurali e è un dottorato in analisi numerica quindi scrivere codice e implementazioni numeriche sono parecchio importanti hanno un peso rilevante e comunque lo trovo anche uno strumento super utile anche solo per avere idee per poi fare conti fare scrivere risultati in più teorici matematici infatti gli esperimenti trovo sempre che diano qualche idea su quale direzione seguire quale risultato provare a mostrare o anche per ricavare qualche esempio insomma quindi diciamo che c'è una grossa parte della giornata in cui scrivo codice cosa vuol dire scrivere codice per me vuol dire solitamente sistemare codice già scritto che magari non funziona questa è gran parte del lavoro perché di solito scrivi codice vuol dire scrivi un programma che può essere in python io solitamente e difficilmente questo funziona al primo colpo quindi diciamo che devi andare a sistemarlo oppure difficilmente è un codice così corto da finirlo in un'ora o due e quindi magari vai a andare avanti vai avanti insomma su quello che hai scritto i giorni precedenti poi cosa può voler dire può voler dire iniziare nuovi esperimenti magari basandoti su quello che hai visto i giorni precedenti nelle due ore di ricerca diciamo più parte un po più creativa diciamo oppure può voler dire anche capire come presentare i risultati che hai ottenuto ovvero scrivere diciamo i riassunti dei dati che hai ottenuto oppure vedere come rappresentare graficamente i risultati o i dati che hai a disposizione dopo diciamo che è più o meno categorico il pranzo da mezzogiorno a luna più che altro perché è come gestito nell'università dove sono quindi di solito ci si trova quasi tutti insomma almeno dottorandi e gran parte dei professori in sala da pranzo che dovresti aver visto insomma nei video che sono comparsi a schermo e si mangia dalle 12 alle 13 quindi con calma si chiacchiera e quant'altro insomma questo include di solito il caffè e di solito appunto stai lì con calma un'oretta dopo diciamo che nella seconda parte della giornata che adesso ti comparirà a video c'è quella parte in cui diciamo io cerco di organizzare la giornata avendo le parti un po' più focalizzate e difficili se vogliamo per come intendo io difficile la mattina e il pomeriggio cose un po' meno difficili chiaramente non è che siano banali non è che le puoi fare occhi chiusi però diciamo che mi richiedono un'attenzione leggermente minore e questo per me è buono perché sono diciamo un po' più stanco chiaramente il pomeriggio le prime due ore di solito del pomeriggio quello che cerco di fare è concentrarmi su studio o lettura di paper studio cosa vuol dire? vuol dire semplicemente stare al passo con un corso se sto seguendo un corso oppure può voler dire studiare del materiale che penso mi sia utile per un progetto che sto facendo o che ho visto essermi utile e che vorrei capire meglio e similmente lettura di un paper che magari ho individuato nelle altre ore insomma della giornata o nei giorni precedenti perché magari ha qualche risultato utile qualche tecnica utile e allora ho deciso che vale la pena dedicare del tempo che può voler dire le intere due ore a leggerlo e quindi cercare di estrarre qualcosa che mi viene utile insomma che mi venga utile finita queste due ore torno alla parte di scrittura codice e il motivo per cui ho spezzato in due ore e tre e un'ora è che spesso ho delle simulazioni che magari durano delle ore e quindi magari anche otto sette otto ore insomma quindi non è per forza sufficiente lo scarto temporale tra il primo blocco e il secondo però spesso riesco ad avere almeno dei risultati intermedi in queste ore e questo è un modo che ho imparato provando insomma ho visto che funziona separare diciamo una prima parte di scrittura codice e una seconda per vari motivi il primo di questi è appunto l'attesa temporale necessaria per avere dei primi risultati insomma nel caso il codice esegua come deve insomma quindi qui faccio sostanzialmente quello che ho fatto nelle due ore della mattinata in cui ho scritto scrittura codice quindi niente di più niente di meno e dopo andiamo alle ultime due ore della giornata queste sono un po variabili in base al giorno di solito nel senso che io ho degli incarichi di insegnamento di solito ogni semestre sono assegnato ad un corso e questo incarico diciamo che consta di preparare fogli esercizi preparare le soluzioni essere disponibile un'ora o due settimana nel caso gli studenti abbiano domande può essere correggere o preparare dei progetti o può essere correggere o preparare degli esami insomma quindi cose varie e in più diciamo che posso avere dei meeting per dei paper o dei progetti su cui sto collaborando con cui sto collaborando diciamo che quindi queste due ore variano da giorno a giorno ma di solito ci faccio rientrare insomma queste cose qui chiaro che se ho un meeting o se ho un appuntamento questo blocco slitta dove deve slittare quindi sono blocchi da due ore più o meno perché abbastanza facile così che mi venga abbastanza facile scambiare l'uno con l'altro se necessario insomma quindi con ciò direi che chiudo di solito la giornata alle 6 cerco di non mettere il codice come ultimo blocco perché so per esperienza che la scrittura del codice è la parte che puoi fare anche quando sei stanco diciamo che puoi convincerti di essere in grado di farla anche quando sei stanco e quindi se non ti viene qualcosa o a meno se a me non viene qualcosa ho sempre la tentazione di rimanere un'ora o due dopo insomma dopo quelle che mi ero fissato come ore lavorative che diciamo che ci sta e lo faccio più di una volta però non penso sia buono che sia la regola insomma e quindi è per questo che l'ho messo prima delle ore di insegnamento finale insomma e dopo finisco la giornata diciamo l'ho attaccata diciamo al blocco lavorativo la corsa perché spesso parto dall'università e vado a correre da lì quindi mi porto il cambio solo per questo e anche per far vedere appunto che non c'è solo star seduti alla scrivania e far conti insomma ma c'è anche dell'altro nella giornata come anche quello che viene dopo le 19 30 ma questo non penso vi interessi più di tanto alcune delle attività sono anche registrare video quindi qualche risultato lo vedete insomma delle ore successive alla corsa quindi diciamo che questa è un po la giornata che cerco di seguire quando ho la possibilità di diciamo impostarmi il ritmo e la pianificazione della giornata chiaramente come detto non è sempre così cerco di tenermi questi orari più o meno probabilmente adesso cambierò nel senso che magari inizierò voglio provare insomma iniziare alle 9 e finire alle 7 spostando l'allenamento la mattina ma diciamo che bene o male la struttura è questa solitamente diciamo come norma non lavoro il weekend chiaramente ci sono stati weekend che ho lavorato tutte e due giorni molto di più degli altri giorni però diciamo che come norma cerco di non farlo giusto per avere degli orari e perché credo che per il carico di lavoro che abbiamo insomma si riesca se uno si impegna a gestirsi organizzarsi insomma a fare tutto nelle ore che che diciamo ho pianificato in questo caso direi che con ciò possiamo chiudere il video se hai curiosità sulla mia giornata o se hai suggerimenti su come migliorare diciamo questa pianificazione più o meno tipo magari fammelo sapere con un commento oppure anche raccontami come diciamo organizzi tu la giornata quando hai modo di poterlo fare insomma con ciò io ti saluto e noi ci vediamo alla prossima allora ciao 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 ciao